vi saluto uno per uno ora dopo vado a rivedere chi era presente vi metto un like vi saluto davvero ho deciso di fare questo video durerà circa un quarto d'ora ok non di più perché oggi c'è stata una sorella che ha messo un commento non ricordo se su un messenger o sotto ciao romina ciao rossana sotto un post ed è una parola che sento via via anche facendo consulenze o parlando con i fratelli ma da tanto tempo muovendomi girando un po leggendo anche i commenti no quando tante volte si affronta un problema o si vive un momento di difficoltà e tanti credenti chiosano il discorso in questo modo ho messo tutto nelle mani di dio non so se avete mai fatto no questa affermazione il mio non è un rimprovero un giudizio attenzione ci mancherebbe altro però spesso no sento questa affermazione ho messo tutto nelle mani di dio a volte magari ti trovi a dare dei consigli guarda il signore ti promette questo no questa cosa si può risolvere così utilizza ma io ho messo tutto nelle nelle mani di dio e siccome questa è una cosa piuttosto frequente che accade e è sintomo di un problema di fondo che va risolto ho deciso di fare questa piccola diretta per affrontare alcune cose pratiche riguardo alla fede lo scorso anno io mi sono dedicato tutto l'anno a predicare sulla grazia e non che non continuerò a farlo ma la grazia è un fondamento che non si esaurisce ovviamente in se stessa la grazia è il fondamento che fa sì che tutte le altre realtà trovino il loro equilibrio ok trovino la loro giusta posizione se tu hai un buon fondamento sulla fe sulla grazia avrai facilità ad esercitare la fede avrai facilità ad esercitare la speranza avrai più facilità esercitare l'amore verso gli altri perché la grazia è la natura stessa di dio è un fondamento però attenzione non dobbiamo pensare che il fatto che noi siamo salvi per grazia esaurisca lì la nostra esperienza con dio ok la grazia è il fondamento la grazia è sono le fondazioni ok dell'edificio che andiamo a costruire ma la bibbia non dice che noi siamo salvi soltanto per grazia ma dice siamo salvi per grazia attraverso fede e se noi non troviamo questo equilibrio rischiamo di prendere delle cantonate ve la spiego in questo modo siccome io sono salvo per grazia allora adesso dio mi fa grazia tutto è per grazia allora io non devo fare niente e tanto dio mi fa grazia non è così ovviamente ok non è così ci sono due realtà che sono la grazia e la fede ma il problema è che nel passato tante volte l'insegnamento sulla fede è stato scorporato dalla grazia e quindi la fede è diventata una sorta di sforzo ok se io mi sforzo se io cerco di credere se io raggiungo quel livello di fede attraverso la preghiera attraverso digiuno attraverso leggere di più la bibbia che sono cose buone ok che aiutano la fede non dico di non farle aiutano la fede ma il problema è che quando mi rendo conto che una parte di me comunque dubita o non riesco ad avere allora è perché ho poca fede ok e questo rischia di far sentire le persone squalificate invece riuscire ascolta ad avere la grazia come fondamento e la fede come primo piano immagina questo ok un edificio dove il fondamento non è la fede come erroneamente è stato insegnato ascoltatemi il fondamento non è la fede il fondamento è la grazia la fede è il primo piano ok la fede è si costruisce si edifica sulla grazia giuda dice edificate la vostra santissima fede preghia pregando nello spirito santo lo spirito santo lo spirito della grazia sulla grazia sullo spirito sulla vita della grazia sullo spirito tu puoi edificare la tua fede e cercherò di chiarire questo però andando a toccare dei punti pratici ok questa affermazione che tanti credenti fanno forse tu che mi stai ascoltando no hai a volte ti sei un po rifugiato in questo ho messo tutto nelle mani di dio il nemico mi ha rubato alcune cose nella mia vita io ho messo però tutto nelle mani di dio ascolta dire ho messo tutto nelle mani di dio equivale a dire quindi o dio esercita tu la fede perché io ho messo tutto nelle tue mani ok e capite che questo non funziona perché ascoltami bene dio non de responsabilizza mai l'uomo invece a noi piace spesso de responsabilizzarci a volte il signore diventa un po il rifugio in cui un po come disse mosè no quando arrivò davanti al mar rosso chiuso oggi il signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli cioè fa tutto dio e il signore lo guardò gli disse perché gridi a me stendi il bastone cioè ascolta dio ha fornito la potenza ma è mosè chi ha diviso il mar rosso ovviamente l'ha fatto con la potenza del signore ma quando noi diciamo che dio ha diviso il mar rosso non è preciso perché finché mosè non ha stesso il bastone il mare è rimasto al suo posto quindi in realtà ecco perché gesù ha detto voi farete miracoli più grandi di quelli che ho fatto io ascoltami invece questa de responsabilizzazione religiosa che ci hanno insegnato dice no ma i miracoli fa dio sì ma il problema è che dio ha messo sulla terra come suo ambasciatore per regnare te e tutto ciò che dio fa sulla terra lo fa attraverso l'uomo sia fatta la tua volontà come è fatta nel cielo così sulla terra attraverso l'uomo ecco perché satana ha voluto far cadere l'uomo per rovinare questo dominio celeste sulla terra e questi sono principi pratici che noi dobbiamo capire perché se questi entrano dentro di te tu inizierai a muoverti sulla grazia attraverso fede vedrai vittoria nella tua vita quanti vogliono vedere vittoria nella loro vita dicano amen adesso di amen lì dove sei anche se non ti sento di amen perché quando dici amen stai facendo tuo qualcosa che ha un impatto sulla tua vita paolo dice ai corinzi tutte le promesse di dio hanno il loro sì in cristo gesù perciò sale il nostro amen alla gloria del padre lui dice sì noi dobbiamo dire amen ok ora quindi quando tu dici io ho messo tutto nelle mani del signore ci pensa dio e stai dicendo al signore guarda io ho messo tutto nelle tue mani quindi esercita tu fede e io sto qui aspetto poi passano gli anni dice ma questa cosa non sia risolta quest'altra cosa non sia risolta perché non hai compreso che sei tu il sacerdote che sei tu il re gesù è il sommo sacerdote ma tu in lui sei sacerdote sei re ed è tempo di iniziare a regnare nella grazia attraverso la fede ok ascolta questo la grazia ha reso disponibile la fede riceve ok per tanti anni invece è stato insegnato che la fede è la mano che riceve sì ma se tu non sei radicato nella grazia avrai sempre un dubbio perché dirai ma la mia fede chiede ma davvero dio me lo darà la grazia che cosa ti dice la grazia ti dice guarda che dio te l'ha già dato dio ha già reso disponibile le sue promesse quando gesù ha detto è compiuto lui voleva dire che l'opera di redenzione di soddisfazione della legge di liberazione dalla maledizione della legge e di ingresso nelle benedizioni della legge era stato compiuto e quando tu hai questa rivelazione della grazia sai che tu stai ricevendo qualcosa che dio ti ha già fornito non te la dà quando tu eserciti fede tu eserciti fede perché lui te l'ha già dato voglio rispiegartelo dio ha già provveduto la tua guarigione la fede quando alla rivelazione quando tu hai la rivelazione che dio ha già provveduto alla tua guarigione la fede è semplicemente vocalizzare e prenderlo quando era a milano ad esempio ma spesso accade io ho avuto una parola di conoscenza su alcune persone che venivano guarita la vista e ho aiutato le persone a dire guarda gesù ha già duemila anni fa pagato sulla sua carne la guarigione della tua vista adesso è tua e quando le persone hanno fatto il gesto un atto di fede di mettere la loro mano e di dire lo ricevo quella è la fede che si sposa con la grazia vedete noi abbiamo bisogno di insegnamenti pratici c'è troppa teologia troppo versettismo nella chiesa noi abbiamo bisogno di cose pratiche gesù spiegava in parabole perché spiegava cose pratiche la grazia ci ha reso disponibile la fede prende gesù ascolta ha preso su di sé e annullato le maledizioni della legge e ha rese disponibili e attivate nella tua vita le benedizioni della legge ma lui le ha rese disponibili perché ha pagato il prezzo ma tu devi farle tue attraverso fede ecco la grazia e la fede ok vi faccio un esempio una persona non è il caso di oggi parlavo con alcune sorelle su facebook o su messenger sono state derubate ok è chiaro che gesù ha detto colui che viene per rubare uccidere e distruggere il nemico ma spesso o meglio quasi sempre non verrà lui stesso a rubare ma utilizzerà circostanze ok può utilizzare una circostanza di una maledizione di povertà chiara sulla tua famiglia può utilizzare persone ok che saranno disoneste porteranno via oppure ingiustizie ok qualche situazione dire io ho messo tutto nelle mani di dio ci pensa lui non è ciò che la bibbia insegna per regnare ok questo non è né grazia né fede e vi voglio fare un esempio come si fa praticamente la prima cosa che io ti invito a fare è ascoltare gli insegnamenti della parola di dio perché gli insegnamenti della parola di dio ti insegnano quali sono le promesse ok questo non è un libro da buttare via come molti oggi purtroppo vogliono far credere che tanto siccome gesù è la parola di dio e questo è vero allora la bibbia no perché tanto la bibbia è stata influenzata da culture questa è la parola di dio è la rivelazione ultima e definitiva della parola di dio da genesi 1 fino all'ultimo capitolo di apocalisse e questo è il fondamento della nostra fede ovviamente non va vissuto come lettera e vi farò un esempio il vecchio testamento non ti è dato oggi per andare a vedere cosa devi fare per essere benedetto perché altrimenti torni nel vecchio patto ma nel vecchio testamento ci sono delle promesse che alla luce del sacrificio di cristo e nel nuovo patto tu puoi comprendere ricevere vi faccio un esempio pratico che poi potrete applicare ad altre situazioni alla guarigione alla liberazione alla benedizione del vostro lavoro ok ma prendiamo un esempio di qualcuno che ha perso non so se tra voi ci sono persone ad esempio che hanno perso qualcosa che era loro che dio magari vi aveva dato perdere un'eredità perdere una somma di denaro perdere qualcosa per cui avete investito che vi spettava ok che il signore magari vi aveva dato in qualche modo è stata perduta nel libro dell'eritico se ce l'avete prendete l'altrimenti ve lo leggo io c'è un capitolo straordinario che capitolo 5 non a caso 5 il numero della grazia e nel capitolo 5 ci sono due passi che si trovano il primo dal versetto 15 e il signore il secondo dal versetto 21 che parlano del restituire di come noi possiamo ricevere in abbondanza ciò che è stato rubato a noi ascolta non dicendo ho messo tutto nelle mani del signore quando sarà la sua volontà questo non è nulla questo è uno è uno sgamare si dice dalle mie parti una responsabilità di regnare e dire che a dio è ok tu mi hai fatto grazia fai una cosa fai anche la fede ok io sto qui ma dio non deresponsabilizza mai ricordatelo infatti pietro dice che noi siamo cooperatori ok con dio nel libro dell'eritico capitolo 5 al verso 15 è scritto così quando qualcuno commetterà un'infedeltà e peccherà involontariamente se avete una penna o un pennarello quando facciamo gli studi insieme imparate a sottolineare nella scrittura involontariamente riguardo a ciò che deve essere consacrato al signore porterà al signore come sacrificio per la colpa un montone senza rifetto preso dal gregge in base alla tua valutazione in cicli d'argento secondo il ciclo del santuario come sacrificio per la colpa attenti questo è un peccato fatto involontario questo peccato involontario è comprensibile alla luce degli atti degli apostoli al capitolo 3 verso 17 pietro predica sta dicendo voi avete ucciso gesù di nazareth lui era l'agnello e poi dice ora fratelli io so che lo avete fatto per ignoranza come pure i vostri capi per ignoranza cioè è stato qualcosa che non è stato fatto involontario loro non volevano uccidere il figlio di dio l'hanno fatto per ignoranza perché non hanno riconosciuto che lui era il messia quindi in questo punto si sta parlando della restituzione a dio di ciò che è stato fatto a dio l'uccisione del suo figlio risarcirà il danno fatto al santuario aggiungendovi un quinto in più e lo darà al sacerdote ovviamente questo montone questo agnello è figura di cristo quando cristo è morto sulla croce non ha soltanto restituito al padre la colpa da adamo fino all'ultimo uomo ma ci ha aggiunto un quinto in più 5 è il numero della grazia cioè il sacrificio di cristo non ha fatto pari con il peccato dell'uomo ma il sacrificio di cristo ha dato più di quello che noi avevamo rubato a dio ecco perché nelle lettere romani paolo dice dove il peccato abbondato la grazia sovrabbondato perché il sacrificio di cristo ha reso al padre un quinto in più del peccato di gesù non è venuto a colmare gesù è venuto a sovrabbondare con la grazia e la restituzione ora che abbiamo capito questo possiamo scendere al versetto 21 e qui si parla di noi quando uno peccherà e commetterà un'infidelità verso il signore negando al suo prossimo un deposito da lui ricevuto attenti qui o un pegno messo nelle sue mani o una cosa che ha rubato e storto con frode al prossimo ok stiamo parlando di perdere di essere derubati o una cosa smarrita che ha trovata e mentendo a questo proposito giurando il falso circa una delle cose nelle quali l'uomo può peccare quando avrà così peccato e si sarà reso colpevole attenti restituirà la cosa rubata o estorta con frode o il deposito che gli era stato affidato l'oggetto smarrito che ha trovato o qualunque cosa circa la quale abbia giurato il falso farà la restituzione per intero e vi aggiungerà un quinto in più attenti consegnandolo al proprietario il giorno stesso in cui offrirà il suo sacrificio per la colpa ascoltate quando il nemico viene a rubarti qualcosa per il sacrificio che cristo ha fatto tu puoi dichiarare le promesse della parola di dio dicono che mi sarà restituito un quinto in più di quello che mi è stato rubato e io oggi lo ricevo per grazia e per fede lo proclamo e lo faccio mio e in questo modo le promesse di dio che sono nel sì ricevono il nostro amen noi dobbiamo cominciare a prendere le promesse e andare con piena fiducia al trono della grazia e ricevere nel nome di gesù non essere spiritualisti o meglio come si dice così credere che in qualche modo forse vuoi da qualche parte no no ci sono delle promesse io vi ho fatto un esempio ma è una promessa che tu devi afferrare e su cui tu devi cominciare ad esercitare fede e dichiarare amen ora un esempio di come si vede che la fede collabora con la grazia questo è il passo più famoso lo troviamo in marco nel vangelo di marco al capitolo 11 al verso 24 e gesù che parla prenderemo solo questo versetto ok quando preghi sulle promesse ricorda però ricorda però che il fondamento della tua preghiera della tua proclamazione sia la grazia poiché tu hai pagato il prezzo poiché tu hai reso al padre un quinto in più di quanto noi uomini ti avevamo rubato in gloria con il peccato da adami in poi poiché cristo ha soddisfatto la legge poiché cristo mi ha liberato dalla maledizione della legge poiché cristo ha versato il suo sangue poiché cristo mi ha riscattato dalla maledizione della legge e mi ha fatto entrare nella benedizione su questo fondamento che è la grazia io sono già benedetto di ogni benedizione su questo fondamento come giustizia di dio in cristo gesù essendo io giusto in cristo e la bibbia dice che le benedizioni dell'empio sono per il giusto io oggi vengo al tuo trono padre e sulle promesse della tua parola che sono nel sì e nell'amen in gesù cristo mio signore oggi io reclamo questo dalle mani del nemico nel nome di gesù amè seguimi marco capitolo 11 verso 24 quando eserciti fede basta un piccolo versetto ascolta in un versetto rivelato nella grazia c'è più potenza che in tutti i migliaia di versetti che tu puoi sapere a memoria un versetto voglio prendertene uno gesù dice perciò vi dico tutte le cose che voi domanderete pregando ok vedi gesù ci dice di pregare non ci dice metti tutto nelle mani del signore ok metti tutto nelle mani di dio e poi voi in qualche modo si se o la va o la spacca non è questo io dico sempre meno proclami di fede su facebook e più proclamazioni di fede nella nostra stanza di preghiera amen perciò vi dico tutte le cose che voi domanderete pregando credete che le avete ricevute passato e le otterrete futuro perché gesù dice così perché tu le hai devi credere che le hai già ottenute quando quando cristo è morto per te sulla croce ecco la grazia le hai ottenute grazia le riceverai fede in mezzo ci sta credi wow dietro di me c'è già la risposta dio non mi risponde oggi poiché dio mi ha già dato io posso pregare se non comprendi questo tu pregherai invece in speranza non in fede e dirai ora io prego e poi dio mi risponderà questa non è la preghiera della fede perché la fede è certezza e la certezza riguarda solo le cose del passato non le cose del futuro ascoltami tu non puoi essere certo del futuro ma puoi essere certo del passato è vero o no io posso essere certo che un mese fa ero in sicilia ma non posso essere certo che tra due mesi sarò in sardegna ci sarò in fede ma non ne posso essere certo ok ma posso essere certo che un mese fa ero in sicilia tu puoi avere certezza ebrei 11 dice la fede è certezza delle cose che si sperano l'unica cosa di cui puoi essere certo è del passato siccome la morte e la risurrezione di cristo la risposta di dio alle tue preghiere è nel passato tu puoi essere certo che dio ti ha già dato e perciò puoi ottenere perché puoi pregare su qualcosa che è certo perché nel passato poiché la croce è dietro di me io ho certezza non so fratelli se vi rendete conto delle cose che stiamo condividendo queste vanno a demolire fortezze e vanno ad innalzare l'opera della fede dentro di noi fondata sulla grazia chi attacca la grazia ruba la fede della chiesa non si rendono conto del danno che fanno perché quando tu attacchi la grazia demolisci la fede perché la fede è fondata sulla grazia altrimenti sarebbe speranza la speranza è l'attesa certa nel futuro mentre invece la fede è la consapevolezza che è che è nel passato e ciò che è passato non può più essere cancellato ciò che è accaduto un'ora fa non potrà mai cambiare ma ciò che io aspetto tra un anno beh quello dipende ecco perché molti non esercitano fede non hanno risultati perché credono che prego e dio mi risponderà no dio ti ha già detto sì alla guarigione sia la restituzione sia il recupero sia la restaurazione sia la liberazione sia la moltiplicazione sia la crescita sia il fatto che tu sia la testa e non alla coda duemila anni fa e poiché è già ottenuto non potrà mai cambiare la fede è fondata su un'azione del passato che è una croce su cui Gesù ha detto tutto è compiuto ecco perché Gesù dice quando voi domanderete pregando credete che le avete ricevute la preghiera della fede è questa signore tu duemila anni fa sei morto e hai pagato i miei peccati hai preso tutte le mie malattie sul tuo corpo questa è l'opera che tu hai fatto poiché tu hai preso tutte le mie malattie io oggi vengo su questa grazia che è già disponibile senza i miei meriti come giusto in Cristo dichiaro che per quell'opera oggi io ricevo nel nome di Gesù e ti ringrazio per averlo già fatto fine se tu togli la grazia la fede diventa uno sforzo nella grazia la fede è riposo non solo ti dirò di più nella grazia la fede è la naturale conseguenza della rivelazione della grazia quando tu vedi chiaramente che Dio ti ha già dato automaticamente tu chiedi è automatico quindi la fede germoglia spontanea sul terreno della grazia che meraviglia e le otterrete e finisco con questi due passi prima Giovanni 5 15 prima lettera di Giovanni capitolo 5 verso 15 però lo leggo da 14 questa è la fiducia che abbiamo in lui che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà egli ci esaudisce se sappiamo che egli ci esaudisce in ciò che chiediamo noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chieste e ascolta ascolta se tu sai che ce l'hai già c'è solo un modo di dimostrare la fede perché perché ebrei 11 1 dice che la fede ha dimostrazione di realtà che non si vedono è vero no io non posso farti vedere che ho fede ma la fede richiede una dimostrazione l'atto di mettersi la mano sugli occhi è un atto di fede perché la fede senza opere è morta fare una semplice opera di fede poiché io credo che tu hai preso la mia malattia agli occhi 2000 anni fa sulla croce metto la mia mano nel nome di Gesù ecco l'opera della fede quella che molti non capiscono che quello che Giacomo dice nella lettera ma la fede senza le opere è morta è questo non riguarda la salvezza riguarda la fede di tutti i giorni a me così rispondo anche a questo sì c'è un modo straordinario ascoltami con questo chiudo ma questa è una chiave gloriosa per dimostrare la fede e il ringraziamento se io so che Dio me l'ha già dato l'atto del ringraziare è dire ce l'ho e siccome si ringrazia quando qualcuno una cosa te l'ha data e non quando te la darà quando tu dici e grazie perché me lo hai già dato quello è ciò che fa click nel mondo spirituale signore ho perso questo è stata un'ingiustizia mi è stato rubato quello non andare contro le persone vai dal signore di tuo figlio Gesù ha pagato il prezzo e ti ha restituito un quinto in più per le mie colpe e le colpe dell'umanità oggi io in Gesù Cristo vengo al tuo trono di grazia signore e dichiaro nel nome di Gesù colui che ha compiuto il sacrificio colui che mi ha dato la sua giustizia colui che ha pagato il prezzo colui che ha reso nella sua vita distrutte le maledizioni e mi ha dato l'ingresso nelle benedizioni della legge oggi io in questa giustizia in Gesù dichiaro che tutto quello che ho perso mi viene restituito un quinto in più e ora ascolta e siccome è già mio ti ringrazio per avermelo già dato e questo vegliare con lo stessi non so se è 1.27 dice abbondate nel ringraziamento abbondate perché grazie perché me lo hai dato grazie perché è mio questa è la fede dire grazie perché me lo hai già non me lo darai ascolta non me lo darai me lo hai già dato quando quando io sono stato benedetto di ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo Gesù duemila anni fa nei cieli oggi attraverso la fede la tua volontà che è la guarigione la restituzione la guarigione della mia vista la moltiplicazione dai cieli viene sulla terra la tua volontà attraverso la fede nel nome di Gesù a me comincia a pregare così comincia a ascoltare insegnamenti li trovi anche sul mio canale o su altri che ti insegnano le promesse della parola segnatele fa le tue perché quelle hanno il loro sì nell'atto della croce di duemila anni fa adesso non devono devono avere il tuo amen e il tuo ringraziamento che le hai già attraverso la tua preghiera e attraverso la tua fede e in questo modo grazie fede tornano insieme e ricordati quando abramo padre della fede e sarà che rappresenta la grazia nel libro della genesi dopo essere stati separati dalla bugia di abramo tornano insieme per la prima volta compare la parola guarigione quando la fede e la grazia tornano insieme i miracoli tornano perché lo spirito si muove ma non basta la grazia serve che tu abbia rivelazione che la risposta nel passato la preghiera nel presente affinché nel prossimo futuro tu lo tocchi con mano dal cielo sulla terra nel nome di gesù amen coraggio smetti di dire ho messo tutto nelle mani di dio perché lo sai in realtà è dio che ha messo tutto nelle tue mani devi smettere di mettere le cose nelle mani di dio perché lui ha messo tutto nelle tue mani gesù disse durante la lavanda dei piedi nella notte dell'ultima cena che tutto gli era stato dato nelle mani giovanni dice poiché sapeva che dio gli aveva dato tutto nelle mani si alzò e cominciò a servire tu in cristo hai ricevuto ogni cosa nelle tue mani smetti di dire do tutto nelle tue mani e comincia a credere che è dio che ha messo tutto nelle tue mani e ha messo nel tuo cuore nella tua bocca la parola della fede ma che sia fondata sulla risposta che sta nel passato al calvario non nel futuro amen comincia a propriarti delle sue promesse io vi benedico vado a cena e ci vediamo presto in giro per l'italia ciao cari e mandatemi le testimonianze dei vostri trionfi di fede amen vi saluto tutti cari grazie per essere stati con me e avermi benedetto con la vostra presenza ciao cari nel nome di gesù grazie a tutti